E adesso a Napoli, Teatro Sociale e Realtà del Territorio danno vita al Festival Quartieri di Vita. Ce ne parla Anna Teresa Damiano. 14 registi, 14 lavori realizzati con associazioni e teatri del territorio, 14 docufilm disponibili in streaming dal 7 ottobre al 18 novembre sulla piattaforma dell'ecosistema digitale della regione Campania. La quinta edizione del Festival di Teatro Sociale e Quartieri di Vita, quella del 2020, non è stata fermata dalla pandemia ma rimodulata. Siamo riusciti a far lavorare tutti comunque e trasformarli in supporti mediatici. A dicembre l'edizione 2021 si chiamerà Life Infected with Social Theater ed è il contagio dell'impegno, quello declinato dal progetto di segno internazionale. Sette registi provenienti da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lituania, Spagna. Due settimane di laboratori, poi gli spettacoli. Prove aperte da Napoli a Benevento, da Avellino a Caserta e Salerno. Con nuovo teatro sanità, NEST, Magnifico, Visbal, Alma d'Arte, Civico 14, Derrié, Lassent. Confrontare i disagi sociali e confrontare i metodi che gli artisti hanno per lavorare a ridosso dei disagi sociali. Il confronto internazionale di questi metodi è una ricchezza che intendiamo attivare a Napoli.